Grazie a tutti Non ho unghie, è sempre impossibile Andiamo a vedere un po' di che cosa si tratta Quindi estraiamo la nostra cover se riusciamo Cover in TPU, in silicone, morbida Cover resistente Andiamo ad inserire nel nostro smartphone Cover che al contrario della Flip non va a coprire lo schermo Va semplicemente a coprire i bordi e il retro di questo dispositivo E copre molto bene anche la parte laterale Andando a coprire il bordino in metallo E non disturberà quindi lo schermo Cover con cui mi sono trovato molto molto bene Lascia libero accesso a tutti i pulsanti E a tutti i microfoni Alla S-Pen e alla micro USB per la ricarica Cover che non ingrossa più di tanto il nostro dispositivo E quindi rimane un utilizzo normalissimo Senza maggiore ingombro del nostro Galaxy Note edige Penso di aver detto tutto È una cover anche abbastanza resistente E che se dovesse cadere il vostro dispositivo Di sicuro non lo salverà da rotture Ma lo salva da cadute di poca distanza O da graffi più che altro Soprattutto delle croniciche sui Galaxy sono veramente fragili Bene, penso di aver detto tutto anche per questa Orsley cover per Galaxy Note edige Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hightech Ciao a tutti